di questa loro storia, lui scenografo di cinema negli anni 70, lei costumista che si conoscono con sé, è appunto questo titolo Giochi di equilibrio ed è questo gioco di equilibrio di coppia, questa ricerca di equilibrio nel rapporto di coppia a fine degli anni 70 che poi viene praticamente proseguito il discorso più avanti quando loro crescono, vent'anni dopo appunto da Remo Girone che fa me e Maddalena Grippa che fa Stefano Girone, la realtà dei fatti è che questa è la maniera più semplice per raccontarlo ma poi il film non è così perché in realtà parte da loro, cioè parte dagli anni 90 appunto tra la storia tra Girone uscirà? chi può dirlo? Sì 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 ma Sì ma